13 gennaio 1970, all'ospedale Bufalini di Cesena nasce Marco Pantani. 14 febbraio 2004, a Residence Le Rose di Rimini, il corpo del pirata viene trovato senza vita all'interno della sua camera, con le ultime memorie e gli ultimi pensieri scritti sulle pagine bianche del proprio passaporto. Oggi Marco avrebbe 46 anni, magari avrebbe avuto un futuro da direttore sportivo, magari da commentatore tv, o magari si sarebbe semplicemente dedicato alla sua passione per il mare e le motociclette. Gli eroi tragici ci danno l'opportunità di fantasticare su quello che sarebbe potuto essere il loro futuro. 14 febbraio, una data che per molti sa di amore. Per chi amava Marco però, dal 2004 è un giorno che fa anche rima con dolore. Due sentimenti apparentemente opposti, ma che spesso invece si intrecciano fra loro. La memoria, le immagini e le imprese che il pirata ha recitato in sella, facendole diventare delle vere e proprie rappresentazioni teatrali, ci consentono, anche a distanza di 12 anni dalla sua scomparsa, di poterlo ricordare come uno di noi. Come uno che ci ha regalato istantanei indimenticabili, fatte di scatti in salita e vittore che hanno scosso una nazione intera. Quasi più di un terremoto o di uno tsunami. Ripercorrere il viaggio di Marco è sempre bellissimo, per quanto ormai straconosciuto. Oggi ci siamo fatti aiutare da Davide Boifava, il direttore sportivo, quello accompagnato e custodito all'alba e al tramonto della sua carriera sportiva. Ci avessi una telefonata dal suo direttore sportivo Pino Roncucci, che era col papà Paolo, e mi dissero che volevano venire con Marco e voleva parlarmi. Quando tanti anni fa si presentò, da me mi disse che ho un grande sogno di venire a correre nella squadra, nella carriera, perché da buon Romagnolo disse perché mi sei simpatico, ti ho seguito, però gli dissi che non era ancora pronto di passare a provvedere perché allora c'era un regolamento di tre anni e questo qua era il secondo anno del direttante. Lui voleva firmare il contratto, ma ha detto che non ci sono i contratti, perché una volta i contratti erano numerati, rilasciati dalla federazione. Ritornò l'anno dopo e io pensavo di averlo perso perché quell'anno lì vinse il Giro d'Italia e i direttanti, staccando tutti i suoi dolomiti e io lo chiamai per complimentarmi e lui inaspettatamente mi disse ti ricordi ancora la promessa che mi hai fatto? Adesso sono pronto di firmare. Ho detto, ma tutte le richieste che hai vuoi venire ancora con me? Sì, sì, io sono una persona di parola, è stato sempre il mio sogno, il mio desiderio, di conseguenza vieno qua e firmo il contratto con un addenduto abbastanza simpatico perché adesso il contratto era sulla porta che andava via e tornò indietro e mi disse ora che il contratto è sbagliato perché non hai messo il premio di vittoria del Giro d'Italia del Tour. E gli ho detto, guarda sei giovane, al momento opportuno lo metteremo. No, no, devi mettermelo subito. Allora feci una postilla nella quale c'erano dentro i premi della vittoria del Giro d'Italia. Pur in una squadra in cui i gradi del capitano erano vestiti dal diablo Claudio Chiappucci, Marco Pantani nel 1994 sconvolse gli equilibri del Giro d'Italia, dominando le consecutive tappe di Merano e dell'Aprica, frazione nella quale il Romagnolo riuscì a staccare Berzin e Indurain. Due strappi alla corsa che gli permisero di salire sul secondo gradino del podio, proprio alle spalle del russo. Nel Giro d'Italia lì, vedevi che in salita, con i grandi campioni di allora, stava lì facile facile, era pronto a sbocciare, di conseguenza è stato facile a dire a lui, Marco sul finale c'è una grande salita, lunghissima e dura, c'è discesa a rivo a Merano, ah sì sì, sicuramente io ci provo. E questo è valso anche per il giorno dopo del tappone del Giro d'Italia con Mortirolo e la vrivola a Aprica. Lui lì fece dei numeri importanti, cioè era facile essere un bravo direttore sportivo con un campione così. Il 94 fu anche l'anno del suo debutto al Tour de France, dove lasciò a bocca aperta i francesi e non solo, chiudendo terzo in classifica dietro Indurain e Ugrumov e conquistando la maglia bianca di miglior giovane. Il pirata, con questo stile unico nello scattare e aggredire i tornanti, riuscì a creare in poco tempo qualcosa di inimitabile nella storia del ciclismo. Lui ha grande carattere, grande personalità. Il pubblico che fa presa sugli scalatori fa presa immediatamente perché vede la fatica, la sofferenza. Poi lui quando scattava in salita dava spettacolo, no? Lo scalatore dà al pubblico le emozioni diverse. E lui in salita era uno che faceva un grande spettacolo. Difatti io mi ricordo allora quegli anni bellissimi, la gente si fermava nei bar a guardare l'arrivo del tipo di tapa e sperava che Pantani vedevano scattare. Erano tutti tifosi di Marco e aveva creato un bacino d'utenza che per il ciclismo allora tutti accendevano la televisione. Memorabile l'impresa scritta sull'Alpe 2 nel 1995, di cui Pantani detene ancora il record di scalata. 36 minuti e 40 secondi, se calcoliamo la partenza, ai 13,8 km dal traguardo, per volare sui 21 tornanti di una delle montagne più mitiche nell'intero panorama mondiale. Sì, la prima volta che ha vinto l'Alpe 2, tra l'altro era caduto, aveva avuto una caduta, voleva ritirarsi qua, sai, là. Poi c'era via una fuga, mi ricordo, gli ho detto, guarda Marco, ti lascio qua due uomini vicino a te, i ginocchi ti fa male, fai quello che vuoi, cioè non è un problema. Io faccio tirare la squadra perché la fuga deve essere annullata all'inizio dell'Alpe 2. Poi tu, se te la senti, fai quello che ti senti, non sentirti obbligato, impegnato o responsabilizzato di fare quello che sto dicendo. Non ti sto dicendo assolutamente niente. Io faccio tirare, due o tre compagni ti rimetto di vicino così stai lì in gruppo tranquillo e di fatti nel prendere l'Alpe 2, nel pezzo più duro all'inizio, la radiocorsa aggiungiva già che lui stava attaccando. E di fatti li stocco a tutti e arrivò a quella, è stata un'impresa epocale per me. Era facile essere un bravo direttore sportivo. Appena entrato nell'Olimpo degli Dei del ciclismo, la carriera di Marco rischiò di interrompersi bruscamente per colpa di quella folle macchina che lo travolse durante la Milano-Torino dell'ottobre del 1995. Un incidente che provocò allo scalatore un calvario lungo, quasi due anni, prima del grande riscatto del 1998 con quell'indimenticabile e leggendaria coppiata Giro Tour. Con Boifava ad applaudire ormai solo da tifoso il suo caro Marco. L'ho sempre seguito, però ramarico no e non mi sono mai trovato pentito, anche perché, anche se non ero responsabile della squadra, la Mercatone 1, però lo sentivo sempre spesso. Ero fuori dalla squadra, ma ero dentro in un altro modo. Ci sentivamo spesso e questo ha fatto sì che rafforzasse la nostra grande amicizia che avevamo, il nostro rispetto dalle persone. Pantani dunque di nuovo nel firmamento della bicicletta, ma ancora una volta per troppo poco tempo. A una manciata di giorni dalla fine di un Giro d'Italia dominato con feroce classe, il 5 giugno 1999 a Madonna di Campiglio il punto di non ritorno, o meglio, l'inizio della fine. Sono stato controllato già due volte, avevo già la maglia rosa, avevo 46 di matocrito, oggi mi sveglio con una sorpresa, credo che c'è qualcosa sicuramente di strano e devo dire che ripartire questa volta, sono ripartito dopo dei grossi incidenti, ma moralmente questa volta credo che abbiamo toccato il fondo. Un fenomeno in sella, ma un carattere fragile giù dalla bici. Dall'estate del 99 al febbraio del 2004, Marco perde progressivamente tutti i suoi punti di riferimento, si isola, ma riesce a regalare qualche sprazzo di rinascita, come al Tour del 2000, dove umiliò Lance Armstrong. Quel momento lì, lottare con un grande, che è stato Armstrong, che dopo lasciamo stare le decisioni che ha avuto, però anche lì ha dato una dimostrazione di una grandezza enorme. Marco Pantani fa parte di quei personaggi che ha avuto una volta ogni tanti anni. Se tu fai caso, i grandi campioni, non è che i Pantani nascono tutti gli anni. Non voglio mancare di rispetto per tutti i grandi campioni italiani e stranieri che hanno vinto il Giro e il Tour. Però lui aveva un sex appeal, la gente era innamorata di lui. Cioè, aveva mosso una miriade di pubblico che purtroppo solo lui sapeva fare. Davide Buifava ritrova il Pantan nel 2003, ma non è più lo stesso. E questa volta non bastano l'affetto, la stima e la sintonia di un decennio prima. Ma ho trovato un marco un po' cambiato, perché tutti noi nella vita abbiamo delle debolezze, perché nessuno siamo invincibili. Perciò è stato un percorso difficile, nella quale io speravo tanto che riuscisse da queste debolezze, però non ce l'abbiamo fatta nessuno e questo è il mio... Non si è riuscito a svolgere il compito che mi ha dato. Ero convinto di farcela, invece non ce l'ho fatta. Da quel febbraio 2004, il Giorno di San Valentino, per molti, ha cambiato decisamente significato. Lo vivo in modo intenso, perché ho provato tutte le soddisfazioni di Marco e ho provato a sentire quel tragico momento lì, nella quale io l'avevo lasciato qualche mese prima e che purtroppo le nostre state si sono perse, perché lui, ripeto, nella debolezza che ha avuto, ha trovato anche il tragico momento. E quello là, proprio quel giorno lì... Alle volte mi viene in mente, non vorrei che quel giorno lì che l'hanno trovato fosse dare una dimostrazione magari a qualche persona che lui li ha voluto bene e li ha voluto bene ancora per una dimostrazione così, come dire, manco questo giorno, il giorno degli innamorati, perché io te ti ho amato tanto e ti ho voluto tanto bene. La persona che lui voleva riferirsi a questo, credo io, non so quale sia la persona, però... sembrava un duro, ma alla fine lui era molto disponibile e voleva molto bene alle persone che aveva fiducia. Insomma, passano gli anni, ma il ricordo di Marco resta sempre vivo e splendente, perché i miti non tramontano mai. Ciao Pirata! Ciao Pirata!